Ripeto, domani ci riuniremo per decidere quello che dobbiamo fare, perché dovete capire signori che le cose avventate, le cose disorganizzate non portano a nessuna parte. Noi dopo la rielezione di Trump, anche se è caduto malato, speriamo che il Presidente si riprenda, noi immediatamente dopo partiamo con una grande manifestazione. E stavolta non si scherza cari amici, se saremo centinaia di migliaia, Conte prende la valigetta come Ben Ali in Tunisia e se ne va, e se ne va. Aspetto il vostro apporto, il vostro contributo, è il popolo italiano compatto che deve scendere in campo. Noi stiamo organizzando, domani già la prima riunione, e poi vediamo tutto quello che si dovrà fare dopo. Insieme? Insieme? No, perché se qualcuno dice no, il Genaro fa tutto lui da solo. No, 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 non faccio tutto io da solo. Ci sono tanti movimenti spontanei, popolari, che si stanno aggregando. Avrete notizie quanto prima. Voi intanto cominciate a preparare la carriola, la bicicletta, la macchina, il treno per venire a Roma. Vabbè, cominciate a prepararvi e non mi dite, caro generale, non abbiamo i soldi per venire in treno. Lì in Tunisia, per scacciare bene lì, sono andati a piedi. Si sono fatti centinaia e centinaia di chilometri a piedi. Centinaia di chilometri a piedi per cacciare via bene lì. Fatelo pure voi, no? Se non avete i soldi, a piedi. Ma fa pure bene, perché qualcuno di voi pure è ingrassato e gli fa bene e dimagrisce un pochettino. E così cominciamo a vedere dove ci sono i coraggiosi, i uomini che hanno gli attributi o i quacquaracqua che si mettono sul web a parlare fatti non parole. Vediamo se ci sono gli uomini con gli attributi che verranno a novembre a far svolgiare questo governo. Questo governo se ne deve andare, perché l'anno prossimo, cari amici, il popolo deve tornare a votare. Un abbraccio affettuoso a tutti, cari amici, e buonanotte a tutti quanti.